Si dice che non è tutto oro ciò che luccica, ma Firenze ti aspettano sia le scintille che l'oro con un pacchetto speciale che ti permette di tuffarti nel mondo glamour dell'alta moda fiorentina. Passeggia nel centro fashion di Firenze. Felice dei tuoi nuovi acquisti, puoi iniziare la tua serata fiorentina. Ammira il tramonto sorseggiando un drink sul terrazzo elegante del lussuoso Hotel Minerva. Il tuo pacchetto speciale include non solo prezzi eccezionali nei migliori ristoranti, ma anche una personal shopper a tua disposizione e convenzioni per bambini che viaggiano con te. Benvenuta a Firenze, la tua passerella personale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.